Ciao, sono Beatrice Capomaggi, il capitano della Unione Rugby Capitolina e farò io la sfida e ve la presento. Tutti gli oggetti sono situati allo zero, abbiamo messo il metro. Di sotto mano prenderò per primo la tavola da self, lo sgabbello, la sedia, poi erano aggiunti l'indoboard, il rullo indoboard e il peso. Visto che la sfida prevedeva una distanza maggiore di passaggio sempre di 60 cm mi sposterò io e qui vi mostro i foglietti che ho messo per evidenziare i 60, 120, 180, 240, 300, 360. scusate stop al tempo 53 anche meno anche meno anche 52 no devo far vedere vedere tutto allora questi sono gli oggetti vabbè si vede che sono in ordine decrescente questo è il metro 60 120 180 140 300 360 ciao sono vedrici comaggi il capitano della riunione del rugby capitolina e dai